C'è gente che è fuori casa da un anno e da un anno stiamo parlando perché? Perché Nicolazzi se ne è andato sui media nazionali a fare i casini, se no non se ne parlava ancora, altro che il comune è inerme. Non è caduto nel vuoto l'appello lanciato dal sindaco di Petilia Policastro Amedeo Nicolazzi che nei giorni scorsi, preoccupato per le condizioni di dissesto idrogeologico che rischia di cancellare la frazione foresta, ha lanciato un drammatico appello nei confronti della regione, minacciando le dimissioni. Una dura presa di posizione ribadita ieri durante la trasmissione I fatti in diretta. In studio il capo della protezione civile regionale, Carlo Tanzi, che dopo un confronto acceso col primo cittadino del Crotonese ha annunciato il suo arrivo lunedì a Petilia. La protezione civile della regione Calabria interverrà proprio nei prossimi giorni per andare a vedere se ci stanno condizioni di rischio per persone e cose, che è quello di cui si occupa la protezione civile. Questa trasmissione riassume esattamente 50 anni di pessima gestione del territorio in Calabria. Parole che dopo settimane di polemiche segnano la tregua tra il sindaco Antoniozzi e il capo della protezione civile Tanzi. Ho molto apprezzato comunque questa trasmissione che mi ha consentito di chiarire e riportare nei giusti binari, nei giusti della discussione fra le istituzioni comune, protezione civile, regione. Il sindaco dunque niente più dimissioni? No, le dimissioni restano in atto se non risolvi i problemi. Che ci faccio io a fare il sindaco se non risolvi i problemi? Me ne vado, vado nella mia azienda. Cristina Iannuzzi per la CNews24.